Eccoci, raccontandovi un attimino qualche cenno proprio della storia di questa meravigliosa azienda che si è sviluppata dal sogno e dalla visione di una donna, la signora Jean-Piobert, proprio lei, che per tutta la vita non fece altro che cercare, e la trovò, una connessione, un collegamento tra la medicina e la bellezza. Jean-Piobert iniziò dagli anni venti a collaborare con un dottore che si stava occupando dello studio dell'elettroterapia e grazie al fatto che seguì questo dottore nelle sue ricerche, riuscì ad immaginare, ad ipotizzare un metodo che potesse in qualche modo mettere l'elettroterapia a disposizione del trattamento del corpo e quindi della bellezza della donna. E fu così che nel 1928 creò il primo istituto dove lei eseguiva questi trattamenti per il corpo con elettroterapia e con tecniche di stimolazione manuale. In questo istituto lei formava personalmente tutti i suoi collaboratori, era molto attenta e scrupolosa e fece tantissima ricerca per il viso, per il corpo, fino ad arrivare alla formulazione nel 1937 della prima tecnica di correzione del seno senza chirurgia e fu un grandissimo successo. Ne parlarono tutti i giornali e da lì prese il via tutta la sperimentazione e tutta la ricerca in collaborazione con un laboratorio molto famoso, grazie alla quale la signora Jean-Pierre Hubert potesse studiare formule innovative e all'avanguardia per un metodo di autotrattamento a casa. Quindi quello che creò fu, che allora ancora non esisteva, un metodo che si basava sulle tecniche di elettroterapia, sulle stimolazioni manuali e sull'autotrattamento. Quello che ancora oggi è il metodo Jean-Pierre Hubert. La bellezza ha il suo metodo. Scusate ma... Eccoci. Solo una cosa tecnica chiedo... Voi vedete la barra dove c'è scritto Stop Share? Giulia? Nessuno? Posso chiedere... Ok, ok. La vedete Giulia? Da fastidio? No, 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 tranquilla, tranquilla, vai, vai. Ah, ok, scusate, tenevo fosse di qualche fastidio. La bellezza ha il suo metodo, quindi dicevamo, un metodo basato sulla sinergia di tre scienze diverse che collaborano per ottenere un risultato meraviglioso. Quindi il metodo Jean-Pierre Hubert si avvale della cosmetica, quindi dei prodotti di trattamento a casa che sono ovviamente mirati per ogni necessità della pelle e per ogni problematica della pelle. E grazie alla fisica, ovvero grazie al fatto che i trattamenti cosmetici ideati dalla signora Jean-Pierre Hubert imitano l'azione della corrente elettrica sulla pelle e grazie alle meccaniche di applicazione dei prodotti riusciamo a riprodurre anche oggi il metodo di trattamento della linea Jean-Pierre Hubert. Linea Jean-Pierre Hubert che da sempre è stata pioniera e molti di voi ricordano questi meravigliosi prodotti. Jean-Pierre Hubert è stata la linea che per prima ha ipotizzato e ideato un metodo per combattere l'agricazione. Sapete quel fenomeno per il quale le fibre di collagene vengono indurite e quindi un metodo per mantenerle più elastiche. È stato il primo marchio ad ipotizzare e a creare una cura snellente in otto giorni quello che allora si chiamava Express Slim e il primo meraviglioso bifasico il famoso SOS idratazione della linea Jean-Pierre Hubert nonché, ultimo ma non ultimo ovviamente il famosissimo Podange che è stato il primo olio secco nel mercato. E questo grazie al fatto che Jean-Pierre Hubert ha sempre potuto fare affidamento sui propri laboratori di produzione di ricerca e sviluppo in Francia dedicati e ad un team dedicato esclusivamente allo studio e alle prove di formulazione dei vari principi attivi. Quindi vedete più di 100 ingredienti attivi studiati ogni anno e più di 50 prove di formulazione per ogni singolo lancio e normalmente vengono rivolte in queste formulazioni 900 donne quindi abbiamo la sicurezza di prodotti testati. Ed eccolo qui, il segmento viso, il trattamento Jean-Pierre Hubert il segmento viso così come suddiviso dalla casa madre quindi questa suddivisione che vedete è quella decisa dalla casa madre e vedo Angela con una faccia meravigliosa beh esatto, adesso spieghiamo perché questa suddivisione perché questi sottogruppi. Allora, chiaramente il sottogruppo cleansing non ha bisogno di presentazioni e il sottogruppo che racchiude in sé tutti i prodotti per la detersione. Nella linea transverse invece troveremo, poi le vediamo più avanti tutte queste linee le affrontiamo tutte con calma. Nella linea transverse troveremo tutti quei prodotti che non hanno una specificità per età perché sono destinati a tutti i tipi di pelli a tutte le età e quindi sono raggruppati in questa categoria che viene definita transverse. Nella linea total non age invece vengono inclusi tutti quei prodotti che vanno a trattare problematiche specifiche ma che non sono anti-età. Quindi parleremo dell'idratazione, del nutrimento, della purezza e della luminosità. Nel segmento total anti-age saranno racclusi tutti i prodotti anti-età per, declinati ovviamente per le diverse tipologie di età, per le varie fasce di età e quindi per le varie necessità della pelle nonché ovviamente la storica Supreme Advance Premium quindi la linea anti-età globale. Ok? Se ci sono domande su questa segmentazione non esitate a riattivare il microfono e farmele. E addentriamoci nelle... Sì Angela? Ho detto molti prodotti che non vedo sono stati tolti. No, 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 qua ovviamente per così si spaventano le ride troppo affollate abbiamo qualche prodotto che adesso li vedremo tutti quanti insieme. Ok? Ok, perfetto. Ok. Eccoci. Eccoci con i nostri detergenti. Prima tra tutti, Iniciance de Maquillant, il latte detergente di Jean Piobert, un latte detergente delicato, detergente che strucca viso e occhi, ricordiamolo, perché è un latte detergente completo e che verrà chiaramente utilizzato mattina e sera, mattina e o sera, a seconda delle preferenze della cliente, che può essere rimosso sciacquandolo o con le cialde di cotone imbevute di acqua o chiaramente con le spugnette imbevute di acqua. Agenti detergenti delicati, allantoina e guanosina, latte detergente ossigenante, reidratante, calmante, lenitivo, detergente completo. Per quanto riguarda invece il tonic Iniciance, tutti lo conoscete molto bene e sapete che è un tonico molto amato e molto apprezzato. È il famoso tonico con le microsfere di vitamina E all'interno, quelle microsfere che adesso le andiamo anche a vedere. Torno da voi perché spero di riuscire a farvelo vedere anche dal vivo. È chiaro che secondo me si riescono a vedere anche le microsfere. Questa è la nuova confezione, per chi non lo sapesse, dell'Iniciance Tonic ed è il tonico idratante lenitivo e antietà, tra virgolette, della linea Jean-Piobert. Queste microperle, queste perle di vitamina E non devono mai essere rotte prima dell'utilizzo. Quindi ricordo che è fondamentale per l'utilizzo di questo tonico che non venga mai agitato prima dell'uso, ma che venga erogato il prodotto direttamente in mano e poi con delicatezza applicato direttamente sul viso. Ok? Collo ed ecco il tè. Non dimentichiamo questa parte fondamentale. Ok? Torniamo alla nostra presentazione. Eccoci. Scusate. Torniamo qui. Eccoci qua. Toniclare. Il Toniclare 3 in 1 è il detergente studiato da Jean-Piobert che ci permette di struccare viso e occhi e non ha bisogno di tonico. Quindi sarà il prodotto ideale per la cliente che voglia fare uno strucco molto veloce che sapete, lo sapete molto bene, per chi mi conosce lo sa molto bene, non è sicuramente quello che noi normalmente consigliamo come gesto di detersione perfetto, però potrebbe essere, e lo è sicuramente, un ottimo prodotto da portare per il weekend, per la notte fuori quando non si vogliono portare i tre prodotti per la detersione. Oppure può essere un complemento per la detersione per chi desideri effettuare una doppia detersione. Ok? Un complemento però, mi raccomando. Nella sua formulazione l'acqua cloreale di Tiglio ci assicura una dolcezza e una delicatezza sulla pelle infiniti. La Toniclare non è un'acqua micellare, la sua consistenza è leggermente più densa, gelatinosa quasi. Per quanto riguarda invece il Tonic Aromatique, fiore all'occhiello anche questo della linea di detersione, vedo teste che fanno sì, ed è così, sì, è vero, lo è. Tonico con azione aromaterapica molto importante, quindi piacevolissimo da sentire, da sforzare una freschezza infinita. E dall'azione molto rivitalizzante e stimolante, quindi molto a molto amato dalle pelli miste e grasse, ma anche da tutte le altre pelli, come gesto di risveglio della pelle mattutino, per esempio. Un estratto di tè verde, estratti di melissa e piglio, e oli essenziali di menta piperita, verbena e limone. Piacevolissimo. Il tonico è spray, torno da voi, il tonico è spray, ed è un tonico che può essere spruzzato direttamente in viso, vediamo se facciamo dei danni, ok, piacevolezza unica, oppure può essere applicato sulla cialda di cotone, e poi appoggiato in viso, e quindi passato normalmente come siamo abituati a fare con il tonico, e la cialda di cotone può essere anche inudita. Ok? Siamo qui, e torno. Mettoci. E procediamo con i detergenti. Mi soffermo un attimo prima su Dusserdo Mousse, Gel Mousse, la conoscete, è una mousse che, allora, nasce come gel, ma viene erogata come mousse, ed è una mousse molto ricca, molto corposa, e molto piacevole nell'utilizzo. Mousse, quindi, dedicata a tutte le pelli che ameranno il gesto dell'acqua, quindi, o al mattino, o alla sera, perché desidera utilizzare l'acqua anche alla sera, strucca e deterge. Dusserdo Mask, invece, è la maschera di detersione, che assicura una pulizia profonda, ma ha anche un effetto lenitivo e calmante, ma ha anche un effetto lenitivo e calmante, e quindi un'azione anche disarrossante, molto importante. Chiaramente per le pelli miste, potrà essere utilizzata più volte, anche due volte alla settimana. Le pelli secche la ameranno comunque, ma la potranno utilizzare magari una volta in meno. vedete, nella formulazione vedete del caulino, è il complesso che chiamiamo idrolatteo, perché è un complesso idratante, lenitivo e calmante. Gelè Cristalline, non ha bisogno di presentazioni, il prodotto amatissimo da tutte voi, il prodotto struccante specifico per la zona contorno occhi, un prodotto testato oftalmologicamente, quindi un prodotto sicuro e importante anche come nutrimento per le nostre ciglia, un prodotto che struccherà con una delicatezza infinita, assicurandoci di proteggere le ciglia. Come lo utilizzeremo, gelè Cristalline? Gelè Cristalline andrà utilizzato direttamente con le dita sull'occhio, facendo con molta delicatezza, oppure sulla cialda di cotone asciutta o imbeduta. Ricordo sempre, mi piace ricordarlo, questo perché gelè Cristalline è un prodotto amato e va usato correttamente, è un prodotto che non può, non deve struccare il trucco waterproof, non lo struccherà mai, ed è un prodotto che può essere utilizzato, grazie al fatto proprio della sua delicatezza e della sua meravigliosa azione anche rinfrescante e decongestionante, può essere utilizzato per fare degli impatti sugli occhi, e noi questo lo facciamo spesso in cabina, per fare degli impatti proprio con le cialdine di cotone imbedute del prodotto, magari durante la posa di una maschera, perché no? se in questo periodo che abbiamo un pochino più di tempo, che possiamo concederci qualcosina in più, perché non utilizzare gelè Cristalline quando ci mettiamo una bella maschera idratante o antità e poi ci possiamo mettere 10 minuti sul nostro divano con gli occhietti chiusi e la cialdina di gelè Cristalline sugli occhi, ok? arriviamo alla linea transverse come vi dicevo prima, la linea transverse racchiude tutti quei prodotti che possono essere indicati per diverse tipologie di pelli per diverse età, quindi non hanno una specificità di età, un'indicazione specifica di età, ma possono essere utilizzate da tante persone diverse, da tante età diverse, come per esempio Skin Breakfast, la colazione della pelle. Amatissima Skin Breakfast è una crema che è un concentrato di vitamine, di energia e di luminosità per la pelle. Infatti il complesso che la caratterizza è il complesso amminolipidico vitaminizzato, un complesso che assicura di apportare tutti quegli elementi energetici di idratazione che assicurano questa famosa luminosità legata a Skin Breakfast. Ricordo sempre che Skin Breakfast, anche se amata dalle pelli più mature, non è una crema con un supporto anti-età importante, quindi ricordiamo sempre di supportare una pelle matura che desidera usare Skin Breakfast con un prodotto adeguato. Vedete le due referenze, gli Skin Breakfast sono la crema in vaso da 50 ml e il tubo da 30 ml. Tubo studiato per esempio per accompagnare le signore in palestra, in piscina, per ricaricare la pelle di energia e idratazione. due prodotti meravigliosi dei quali uno è la novità, il Serum Universel e il Serum Universel Elisirui. Allora, Serum Universel e Serum Universel Elisirui sono due sieri che non hanno un'indicazione specifica di età perché si tratta di sieri che lavorano a 360 gradi sulla prevenzione dell'invecchiamento e sui primi segni e che quindi possono essere amati dalla cliente più giovane come dalla cliente anche un pochino più matura, per esempio, che si avvicini ad un siero per la prima volta. perché no, perché no. Allora, il Serum Universel con le sue sette azioni antietà assicura un effetto seconda pelle, ovvero seconda pelle perché grazie ad un suo attivo che si chiama Serapaz riesce a ricreare questo film che si appoggia sulla nostra pelle rendendola levigata ed uniforme. Quindi la sua azione, oltre che di idratazione, di prevenzione antietà, di luminosità, di energia per la pelle, di prevenzione delle discromie, attenzione, e anche di un effetto opacizzante è un siero che a 360 gradi ci assicura questa azione sui primi segni e sulla prevenzione dei segni. Nell'elisir riparatore notte che cosa troviamo in più rispetto al Serum Universel giorno? Troviamo un'azione di stimolazione dei mitocondri molto importante. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo principalmente di un effetto molto energizzante, oltre che di un effetto estremamente riparatore per la notte. Quindi una rigenerazione notturna molto importante e un'azione sull'aumento dell'energia cellulare vera e propria. Quindi la pelle sarà destressata, riparata, rigenerata, reidratata e confortata di notte e le sarà data nuova energia per una pelle meravigliosa a risveglio, quindi l'effetto per pelle nuova. E questo lo ottiene l'Elysir Nui grazie ad un complesso che si chiama Nitex 7 che quindi, come vi dicevo, lavora sui mitocondri per rivitalizzarli e rilanciare quindi la formazione dell'ATP che è l'energia cellulare vera e propria. In più, grazie alla riparazione dei danni dovuti ai radicali liberi con le altre azioni idratanti rigeneranti notturne assicura di liberare l'energia cellulare della pelle per una pelle meravigliosa. della linea transverse fanno parte anche i due mitici prodotti Irylis Irylis contorno occhi e Irylis maschera. Credo che li conosciate tutti ma la crema contorno occhi Irylis la vedete con la sua struttura lamellare ha due fasi una crema e una gel che sono ben separate all'interno del vaso e che devono essere mantenute separate creano queste lamelle si può percepire molto bene direi dalla foto sono lamelle quindi questi strati che non devono mai essere miscelati mi raccomando all'interno del vasetto ma devono essere utilizzate la crema deve essere utilizzata prelevando in verticale con la spatola il prodotto e poi miscelando le due fasi sulle dita prima dell'applicazione mi piace ricordare se posso ancora prendervi un attimo che nell'applicazione di un contorno occhi soprattutto di un contorno occhi antifatica come può essere Irylis che è un'antietà ma anche un meraviglioso antifatica se vogliamo aiutare l'azione antifatica una volta applicato il prodotto miscelato il prodotto ho applicato il prodotto sui colpastrelli possiamo procedere all'applicazione attraverso pressioni drenanti sulla cata sempre dal centro verso l'esterno in questo modo qua pressioni drenanti sono pressioni abbastanza importanti non da farci male ma sono pressioni che si devono sentire ma che non devono spostare i muscoli ok? devono essere pressioni dal centro verso l'esterno sia sopra che sotto quindi appoggiamo premiamo e poi ci spostiamo appoggiamo premiamo appoggiamo premiamo e andiamo avanti ok? questo in generale per aiutare nell'applicazione dei contorno occhi è un metodo che a me piace molto consigliare alle clienti della linea Iedlis conoscete tutti anche la maschera antifatica che è una maschera capace di situare in azione su borse e occhiaie bella piacevole è una maschera fresca alla capacità proprio di ravvidare lo sguardo lo illumina e toglie toglie aiuta aiuta a nascondere e a calmare e a lenire e a diciamo a drenare quindi a svuotare anche le borse e aiutare per le occhiaie quindi idrorestitutiva idratante levigante e antifatica l'applicazione di Iedlis viene fatta su tutta alla palpebra alta e mi raccomando tutto nella zona contorno occhi e può essere fatta più volte alla settimana può essere fatta all'occorrenza quando abbiamo bisogno di un prodotto antifatica immediato può essere fatta per dieci giorni di seguito al posto del nostro trattamento abituale come preparazione per avere una zona contorno occhi più bella se abbiamo un evento un patrimonio un evento particolare per il quale vogliamo avere un aspetto più riposato ok e questa è la nostra Ierlis linea Ierlis fiore all'occhiello è già più aperta ancora oggi entriamo nel segmento total non age con la linea idratazione la linea idratazione che adesso vedete qua in questo modo qua e perché in questo momento è così tutta la linea idratazione è in riformulazione quindi al momento ritroviamo il nostro meraviglioso bifatico e la novità le due BB cream allora la BB cream è un prodotto nuovo sappiamo che il mercato delle BB cream è sempre molto florido e Jean-Pierre ha deciso di rinnovare le formule di una volta e quindi creare un nuovo prodotto una crema quindi idratante colorata con anche un SPF 20 e la crema BB nuova di metodo Jean-Pierre che è presente in due colorazioni la light medium e la medium dark quindi potrete accontentare tutte le pelli ha un'azione 6 in 1 la definiremo un'azione 6 in 1 grazie al complesso BB skin 6 che quindi idrata riduce i rossori uniforma l'incarnato che è quello che pretendiamo da una crema colorata così importante leviga perché dà un bellissimo effetto levito alla pelle ravviva il colorito e protegge e lo abbiamo visto con un SPF 20 l'hydroactive bifas non ha bisogno di presentazioni il meraviglioso bifasico a base di acido ialuronico che assicura un bagno di idratazione per la pelle in qualsiasi momento della giornata a qualsiasi pelle e in qualsiasi condizione climatica l'hydroactive bifas è il prodotto che tutte le clienti Jean-Piobert hanno in casa perché è un prodotto che aggiunge idratazione a qualsiasi altro prodotto anche di altre case e che disseta proprio la pelle nel momento in cui lo eroghiamo spruzzandolo direttamente sulla pelle otteniamo una sensazione di benessere di pelle che finalmente si sente dissetata intanto l'idrofase e la lipofase assicurano un'idratazione e anche un apporto lipidico scusate eccoci arrivo arrivo con il bifasico qui nella mia mano perché è chiaro che l'idroactive bifase è un prodotto che aggiungiamo in qualsiasi momento al nostro trattamento abituale che può essere utilizzato come primo prodotto prima di qualsiasi altro trattamento può essere utilizzato durante la giornata anche sul trucco quindi agiteremo il prodotto lo erogheremo direttamente sul viso anche con il trucco e in questa nuova nuovissima questo nuovissimo contenitore con questo nuovo erogatore è ancora più facile e non c'è bisogno di fare molta attenzione alla distanza dalla quale lo spruzziamo perché l'erogazione è proprio ottimale e rientriamo eccoci per affrontare la nutrition quindi la linea murilis che è la linea dedicata alle pelli secche aride e chiaramente pelli che possono avere delle manifestazioni di questa aridità quindi tutte quelle pelli che possono manifestare disagio perché sappiamo che la pelle molto arida può arrivare a desquamarsi sappiamo che quindi può avere queste sensazioni di disagio di pizzicore arrossamenti perché la pelle secca può arrivare ad avere questa manifestazione di desquamazione arrossamenti e quindi la linea murilis si propone di andare a nutrire e lenire queste pelli così bisognose una formulazione capace di andare a apportare ceramidi e stimolare la produzione di ceramidi da parte della pelle in modo da migliorare la coesione tra i cheratinociti quindi quelli che formano proprio la barriera di protezione naturale della nostra pelle quindi grazie a murilis e al complesso renofespin 2 assicuriamo un effetto barriera ottimale per questa pelle quindi una protezione ottimale dalle aggressioni esterne ma anche dalla disidratazione recessiva e questo lo facciamo con tutti i prodotti della linea quindi anche con l'olio murilis ma l'olio murilis in più sappiamo essere il prodotto che apporta una fase lipidica molto importante e in più un'azione lenitiva e calmante e sarà quindi il prodotto che possiamo andare a consigliare a tutte le clienti che vogliano intanto nutrire un pochino di più rispetto alla crema da sola quindi un'aggiunta di un'azione liquidica importante oppure anche per tutte quelle clienti che vogliano aggiungere nutrimento alla loro crema di trattamento normale perché murilis può essere miscelato con la crema di trattamento oltre che essere utilizzato da solo prima della crema di trattamento quindi possiamo prelevare qualche goccia dell'olio murilis aggiungerla alla nostra crema di trattamento miscelarli chiaramente nella mano e aggiungerla al nostro prodotto di trattamento per assicurare un apporto maggiore di lipidi è un'azione lenitiva e calmante e ultima ma non ultima della linea murilis la famosa famosa perché è stato un passo molto importante per la linea Jean-Piobert questa maschera che ha un'azione strepitosa la maschera della linea murilis è una maschera siero quindi una testo ibrida che assicura il potere riparatore e nutriente di tutta la linea a viso e contorno occhi e su questo metto l'accento è viso e contorno occhi una maschera reidratante nutriente riparatrice viso e contorno occhi quindi con un cuore della formula sempre ricco del complesso Renutri Skin cioè quello che ricostituisce la barriera di protezione della pelle ma con anche un'azione trenante meravigliosa sulla zona contorno occhi quindi reidrateremo anche la zona contorno occhi nutriremo profondamente la zona contorno occhi e avremo anche un'azione antipatica nella zona contorno occhi grazie alla maschera murilis ed è una maschera che viene indicata anche per il trattamento notturno quindi la possiamo tenere in posa tutta la notte volendo nella linea puretè sempre nel nostro segmento total non age quindi parliamo sempre dei prodotti di entità la linea puretè è quella dedicata specificamente alle tè di quindi prodotti che avranno l'azione sebo regolatrice e azione sebo assorbente il gel detergente la lozione tonica e il fluido di trattamento nel gel detergente ricordiamo che chi conosce il prodotto lo ricorda molto bene ci sono queste piccole sfere che si chiamano cosmo sfer ricche di allantoina mentolo quindi un'azione da una parte lenitiva e da una parte molto rinfrescante mentre il tonico assicura grazie a un attivo che si chiama bioecolia un'azione antibatterica molto importante ma è un antibatterico selettivo l'attivo bioecolia ha proprio l'azione di determinare un'inibizione della crescita dei batteri dannosi senza in alcun modo danneggiare quelli invece favorevoli e l'isopur fluid mattifiante ed idratante è il fluido opacizzante che però assicura anche una buona idratazione della linea isopur con un attivo specifico per lenire e calmare e disarrossare perché sappiamo che normalmente le pelli grasse possono manifestare anche delle infiammazioni importanti quindi anche un attivo calmante e venitivo ed eccoci alla ultima nata del segmento non age che è la linea Eclat con Antinze Eclat creme revelatrice e Antinze Eclat maschera allora Antinze Eclat innanzitutto è una crema dedicata a tutte quelle pelli che manifestano disagio a causa dell'eccessivo inquinamento a causa del che possiamo dire dello stile di vita che in qualche modo limita l'ossigenazione in qualche modo sto parlando chiaramente delle pelli esfitiche sto parlando in particolar modo delle pelli che hanno una vita molto intensa che vi dono molto l'ambiente urbano quindi sono sottoposte normalmente ad un intenso inquinamento e che quindi hanno bisogno di detossinarsi profondamente e che normalmente come manifestazione di disagio hanno quella di quei micro arrossamenti di quelle micro discromie che purtroppo non danno un effetto di uniformità all'incarnato la linea Antoine Céclat revelatrice de Clavisage ha un attivo così come la maschera ha un attivo che si chiama Claritea che è un estratto di tè bianco che ha un'azione schiarente e uniformante dell'internato con un'azione anche lirtante e questi corneo stickers che sono dei micro patch che si appoggiano sulla pelle e danno un effetto legatissimo alla pelle rilasciando i principi attivi idratanti e illuminanti mentre per quanto riguarda la maschera la Masque Bumant Antoine Céclat che ha un cuore di formula identico ma con in più un attivo opacizzante abbiamo qui un prodotto capace di lavorare come maschera quindi di rilasciare i suoi principi attivi nei dieci minuti della posa che però poi può essere gommato per fare la vera e propria azione sfogliante e vediamo anche come sono qua Antoine Céclat Antoine Céclat arrivo verrà distribuito su tutto il viso ricordiamo sempre di evitare la zona contorno occhi in strato non troppo sottile non secca nei dieci minuti di posa però lo strato non deve essere troppo sottile dopodiché procederemo al tempo di posa che sono i dieci minuti e la rimozione del prodotto andrà fatta gommando il prodotto in questo modo ipotizziamo di averla su tutto il viso gommeremo il prodotto con movimenti dal centro viso verso l'esterno delicati mi raccomando tendete sempre per non spostare i muscoli in questo modo qua lo andremo a carezzare la carezziamo finché non si gomma completamente di qua e di là ok il residuo può essere risciacquato con acqua è veravia bellissimo lasciando una pelle luminosissima uniforme non più arrossata un'azione sfogliante bella è un'azione schiarente bellissima è una freschezza infinita domande sulla mascomant tutto ok e torniamo a noi per immergerci finalmente nel segmento anti-age e per quindi parlare di tutti i prodotti anti-età della linea method champion bird partiamo chiaramente con l'anti-age global supreme advanced premium che è l'antietà globale che lavora a 360 gradi sul trattamento di tutte le cause di invecchiamento quindi avremo un complesso di attivi che lavorerà con azione anti-rughe anti-rilassamento quindi rassodante anti-discromie e un'azione reliquidizzante molto importante quindi una linea caratterizzata dal da principi attivi di ultima generazione ognuno dei quali in qualche modo vuole imitare un'azione di chirurgia estetica e che sapranno andare a lavorare sulle problematiche specificamente sia di rilassamento che di profondità della ruga quindi risolleveremo la ruga per quanto chiaramente ricordatevi che vi dico sempre per quanto possibile con una crema lavoreremo per il risollevamento della ruga e per la prevenzione della perdita di tono nella linea Supremo Advanced Premium come sapete avremo una crema giorno e notte abbiamo una crema giorno e notte che lavora specificamente attraverso i principi della cronobiologia per proteggere di giorno e rigenerare di notte una crema contorno occhi che lavora con un attivo capace di raffreddare l'area del contorno occhi e quindi migliorare la microcircolazione e che quindi lavorerà oltre che su tutti i fattori di invecchiamento anche su borse e occhiaie il siero che è il prodotto con la concentrazione più alta del complesso Global Tech ma anche con un'azione l'istante più importante rispetto alla crema che è in un'azione rassodante elittante molto importante il fluido specifico collo e décolleté e ci soffermiamo magari solo un attimo a dire come applichiamo la crema per il collo perché questa è una cosa che mi preme sempre molto ricordare la crema collo sappiamo che sicuramente ogni trainer ogni beauty ogni persona che ogni estetista che voi avete conosciuto ha una tecnica di applicazione della crema collo diversa il mio consiglio professionale per l'applicazione della crema collo si basa sul fatto che quasi sempre le clienti non fanno i movimenti giusti e quindi piuttosto che ripetere dei movimenti non corretti per molti anni preferisco io sempre consigliare che non vengano fatti i movimenti e quindi per l'applicazione della crema collo consiglio sempre di stendere la crema nelle mani su tutta la mano e poi di appoggiarla in questo modo qua anche premendo quindi facendo anche un'azione drenante vedete il movimento quindi premiamo uno due e stiamo sempre premendo tre quattro e cinque fino ad arrivare all'attaccatura del seno uno due tre quattro e cinque perché il seno il collo finisce all'attaccatura del seno mi raccomando non ci fermiamo qua insomma bisogna prendere sempre anche il decoltè chi li troviamo come ultimo della lista ma sicuramente non ultimo della linea Suprem Advanced Premium è la cura integrale Antans Anti-Age Visage è il più rallocchiello di questa linea ed è il prodotto che più di tutti esprime l'azione sulla profondità della ruga soprattutto quelle verticali quindi soprattutto quelle che normalmente risultano più profonde e quindi insomma che danno l'aspetto meno giovane al viso la cure integrale Antans Anti-Age ha un'azione riepitellizzante molto importante nonché chiaramente un'azione anti-ruga rassodante con il complesso Global Tech come tutto il resto della linea riepitellizzante anti-discomie ma la sua azione migliore la esplica nei confronti della ruga profonda quindi un prodotto capace di risollevare riempire e ricostruire in maniera veramente visibile voi sapete tutte quante che la cure integrale è un prodotto che quando viene provato dalle clienti non viene lasciato non viene lasciato quasi mai nonostante fosse nato per un utilizzo intensivo 28 giorni ormai è diventato un prodotto che non può mancare per le nostre clienti e che con difficoltà riusciamo a farli interrompere ogni tanto perché l'effetto è visibile già dalla sera alla mattina si vede già una grana della pelle completamente diversa una luminosità unica e una levigatezza incredibile quindi un prodotto da consigliare senza timore perché il prezzo è assolutamente giustificato per l'azione che ha sulla pelle ricordo solo della questo contagocce di questo flacone una curiosità che magari non tutti sappiamo ricordo semplicemente che adesso è un po' difficoltoso farvelo vedere ma questo flacone qua ha una scanalatura in fondo dove appoggia il contagocce che permette di prelevare fino in fondo il prodotto senza sprechi e senza dover inventarsi qualsiasi movimento per farlo scendere si riesce a prelevare il prodotto senza problemi fino in fondo ok e rientriamo parlando di Divin Skin quindi siamo nuovamente nel segmento anti-age e Divin Skin con la sua prevenzione globale ovvero Divin Skin nasce come prodotto di prevenzione quando parliamo per questa azienda di prevenzione parliamo di una fascia di età ben specifica ovvero quella che va dai 30 ai 40 anni e chiaramente parliamo di una fascia di età relativa all'età biologica della pelle e non a quella anagrafica perché possono essere i 28 come possono essere i 42 anni però per le esigenze specifiche di questa fascia di età che sono principalmente di idratazione che sono principalmente necessità di stimolazione dei processi metabolici che iniziano un pochino a rallentare e di detossinazione quindi queste sono le problematiche principali su cui si concentra e si focalizza la linea di Divin Skin quindi combattere i primi segni dell'età prevenire la formazione degli ulteriori segni e detossinare profondamente la linea si compone di un trattamento viso che nasce come trattamento giorno ma sempre più in là secondo me sarà un trattamento che sarà dedicato al giorno e notte un contorno occhi che ha un bellissimo effetto drenante detossinante chiaramente idratante detossinante con anche una bellissima una presenza molto importante di una perlescenza che assicura un aspetto bello luminoso il siero il siero nasce come necessità di prevenzione chiaramente contro la formazione di radicali liberi quindi protegge protegge dall'inquinamento ambientale protegge dagli effetti dannosi quindi dai danni provocati da raggio V protegge anche per esempio dai fumi dei prodotti chimici anche in casa quindi un prodotto di protezione a 360 gradi mentre la maschera la maschera mii molto bella una maschera che nasce specificamente per l'utilizzo notturno e che quindi in questo momento è il trattamento che le pelli che usano di skinna possono utilizzare anche tre o quattro volte la settimana come trattamento notturno perché basta lasciarla in posa e poi far assorbire l'eccesso e andare a dormire con la maschera è una maschera che cosa fa ovviamente aiutando a detossinare rilancia il metabolismo ma di notte ha proprio quest'azione decontratturante e distensiva della pelle quindi proprio una maschera che farà in modo che la nostra pelle di notte si rilassi si rilassi completamente e si distenda e diventi meravigliosa per il mattino una maschera che ha una bella azione molto fresca quando la mettiamo è piacevolissima quindi la applichiamo la teniamo 10 minuti in posa da un minimo di 10 minuti a quanto si vuole se rimane dell'eccesso lo si tampona prima di andare a dormire si tampona proprio con la velina senza problemi total anti-age anti-read la linea conoscete tutti molto bene molto amata molto amata la linea anti-rughe per l'eccellenza anti-read per la linea metodo champioverte si riferisce ad una fascia specifica di età che ci andiamo a dedicare alla cliente dai 40 ai 50 anni all'incirca quindi dove ci sono già delle rughe dove sono presenti delle rughe conclamate quindi un'azione anti-rughe specifica con un attivo che si chiama glico complesso che è un attivo che lavora sulla deglicazione quindi come vi ricordavo prima le fibre di collagene che si induriscono grazie all'azione negativa dei residui dell'alimentazione specificamente carboidrati quindi un attivo che fa questo lavoro di deglicazione quindi cercare di limitare i danni al collagene soprattutto i danni di indurimento al collagene e il complesso biopuce che è quello decontratturante quello che in qualche modo imita l'azione dell'elettroterapia per determinare un'azione decontratturata e quindi distensiva dei tratti e della nostra ruga la crema da giorno la crema da notte un contorno occhi che è un fiore all'occhiello della linea certitude molto attivo sulla profondità della ruga e sull'idratazione della parte molto bello il serum anti-read ultra che ha anche degli attivi antimacchia la maschera anti-read usatissima da noi in cabina perché l'effetto immediato sulla distensione della pelle è visibile proprio visibile dopo la maschera è una crema specifica per trattare la zona del contorno labbra e la mucosa quindi una crema riempitiva delle rughette della zona contorno labbra e nutriente e l'evigante per la mucosa e nella linea total anti-age ritroviamo anche la storica e mitica radical fairness quindi parliamo di rassodamento di rimodellamento dell'ovale radical fairness agisce specificamente sul rassodamento e sul rimodellamento dell'ovale e lo fa con il complesso decaliptase il complesso decaliptase agisce lo specifico e lo scandisco bene su tutti gli strati della pelle per assicurare un'azione liftante di superficie rassodante nel derma e di alleggerimento quindi per donare tono alleggeriamo nell'ipoderma tre strati della pelle tre azioni diverse distendiamo in superficie rassodiamo nel derma alleggeriamo nell'ipoderma la crema la crema ferme visage la crema utilizzabile giorni e notte con la sua texture crema gel ricca il serum liftant e restructurante visage che è il siero che in più oltre al complesso della decaliptase assicura un processo rigenerante molto importante la maschera ad azione immediata e quindi un effetto lifting immediato che può essere utilizzato come prodotto anche di bellezza immediata e il prodotto lifting palpebre che poche aziende hanno e che ci fa molto piacere farvi anche vedere e farvi vedere quale può essere un consiglio di utilizzo per le vostre clienti il lifting palpebre lo preleveremo sui colpastrelli e lo applicheremo direttamente sulla palpebra con movimenti vedete che tendano verso l'alto in questo modo qua dal centro verso l'esterno movimenti che tendano verso l'alto il lifting palpebre può essere utilizzato chiaramente da tutte le clienti che vogliono fare un'azione rassodante intensiva sulle palpebre ma anche per quelle clienti che vogliono un prodotto di bellezza prima del trucco perché no prima di un trucco importante ultimo prodotto del segmento total anti-age ultima linea del segmento total anti-age il prodotto rigenerante Regenactive la linea Regenactive nasce specificamente per quella fascia di età che sta già affrontando il cambiamento ormonale quindi una pelle che ha bisogno di essere ricaricata non solo di energia ma soprattutto di diciamo di prodotti ricchi e lipidici quindi olio di sesamo burro di karité saranno presenti nella sua formulazione un complesso che si chiama collagaine che è un complesso che esplica quella che loro hanno chiamato l'azione di flashback cellulare quindi di riportare indietro le lancette per donare nuova giovinezza a questa pelle un complesso di amminoacidi che funziona è un meccanismo un po' particolare quindi vi rimando eventualmente ad un eventuale approfondimento ma il complesso di amminoacidi presente in Regenactive è il complesso che determina l'azione antimacchia del prodotto e lo fa non riprendo l'azione della tirosinasi ok quindi è un meccanismo di azione un pochino diverso perché interrompe il segnale sinaptico di formazione della melanina quindi un discorso leggermente diverso per questa crema per ora la linea si compone della crema giorno e della crema specifica per il contorno occhi ci aspettiamo meraviglie a breve per questa linea Regeneration e con questo avremmo terminato la carrellata sui prodotti esco e torno con voi per sentire se avete necessità di chiarimenti per qualcosa riattivate pure i vostri microfoni così torno a sentirvi è stato terribile non sentirvi tutto bene è stato tutto chiaro sì bellissimo come sempre bravissimo grazie hai solo se posso dire saltato il gommaggio eclat no Rosalba cosa mi stai dicendo ma come di che si tratta il mitico storico famosissimo gommaggio eclat no no ma certo lo ho detto con enfasi perché è un gommaggio che ci piace tanto perché è un gommaggio che oltre ad avere le microsfere sfoglianti all'interno contiene anche delle unisfere si chiamano ricche di vitamina E tra le altre cose che donano luminosità estrema io purtroppo non credo che siano visibili da questa distanza ma ci sono delle microsfere bianche all'interno che oltre quindi il gommaggio oltre a fare un'azione sfogliante normale anche questa azione illuminante e carigliosa grazie Rosalba con tutto ho detto magari aveva qualcosa l'ha tenuto da parte per dirci qualche informazione ho parlato prima dei prodotti che venivano dopo e dovevo parlare poi di questo e poi l'ho saltato grazie bene cosa mi posso dire la signora Rosalba mi ha avvolto Anto perché si è stata abbastanza precisa per presentare la linea e loro erano ben attenti a tutto era attentissima la signora Rosalba ma io la conosco la signora Rosalba grazie a tutti Grazie a tutti.